Ciao amici di XS2 Games e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele, finalmente è arrivata l'estate E come festeggiare se non con un nuovo drone? Quello che avete appena visto in apertura video è il trailer, il video della prossima conferenza DJI programmata per il prossimo 11 giugno In cui forse verrà presentato il nuovo drone DJI, forse Durante questa attesa mettiamo insieme le idee e cerchiamo di capire cosa abbiamo appena visto Innanzitutto il titolo, il nome di questa conferenza è Learn to Win, impara a vincere, imparare a vincere A cosa potremmo quindi pensare? Beh la prima cosa che mi viene in mente è un possibile nuovo drone racing racer targato DJI E non sarebbe un'idea nemmeno così impossibile o realizzabile Specialmente se considerate che solamente un anno fa DJI ha rilasciato sul mercato i suoi DJI FPV Goggles SE Racing Edition Che permettono un FPV sia sui droni DJI sia sui droni racing 2.4 5.8 GHz Quindi secondo me l'idea di un drone racing targato DJI non è così realizzabile Oppure se prendiamo per buone le forme viste durante questo video Quindi linee molto taglienti, molto futuristiche Beh potrebbe essere anche un prodotto totalmente nuovo Quindi un nuovo drone classico oppure qualcosa di inedito Magari un drone terrestre o un drone misto Che va sia sulla terra, corre sulla terra, poi si alza in volo Potrebbe essere anche qualcosa del genere Ancora potrebbe essere il DJI Spark 2 che in tanti aspettano me compreso O il nuovo DJI Inspire Oppure potrebbe non trattarsi assolutamente di un drone Potrebbe essere qualcosa di totalmente diverso Magari qualcosa di professionale Un nuovo gimbal Una macchina del tempo a giudicare dalle forme Beh chi lo sa ragazzi Quello che so però è che per avere una risposta definitiva A questo dilemma che ci accompagnerà nei prossimi giorni Dovremmo attendere l'11 giugno Ora ovviamente ditemi la vostra Cosa ne pensate? Secondo voi di cosa si tratta? Cosa presenterà DJI l'11 giugno? Sbizzarritevi ragazzi lasciando un bel commento qui sotto Parliamone insieme Inoltre qui sotto in descrizione ai video Trovate i link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte gruppo facebook Droni e tecnologia italia Canale instagram E infine ragazzi se volete supportare questo canale Non chiediamo nessuna donazione Nessun abbonamento ma un semplice like Un commento una condivisione Iscrivetevi se non l'avete già fatto Invitate i vostri amici E questo è tutto Buonanzi a tutti Ci vediamo al prossimo video Sempre qui su ADXS2 Games Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao